Si svolgerà giovedì 13 dicembre alle 18 in cattedrale la concelebrazione eucaristica per la consegna ufficiale alla diocesi di Caltanissetta del decreto di venerabilità di Monsignor Giovanni Iacono che è stato firmato lo scorso novembre da Papa Francesco. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da sua eminenza Cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. In un documento il vicario generale della diocesi di Caltanissetta Monsignor Giuseppe Laplacca ripercorre la storia di Monsignor Giovanni Iacono che è nato a Ragusa nel 1873 ed è morto nel 1957. Iacono è stato vescovo di Caltanissetta dal 1921 al 1956, ha guidato la diocesi negli anni difficili del fascismo e del dopoguerra dedicandosi con cura particolare al seminario che completò e ampliò così come la cattedrale ricostruita dopo i bombardamenti del 1943. E ha rappresentato nella coscienza e nella memoria del popolo nisseno un esempio indiscusso di uomo di Dio, testimone di carità e di preghiera. Infatti visse una povertà rigorosa e assoluta e destinò ogni risorsa possibile alla carità verso i più poveri. Nei 35 anni trascorsi alla guida della diocesi nissena è stato circondato dall'amore di tutto il popolo che ne ha riconosciuto la profonda bontà, la spiritualità della sua preghiera, la dedizione determinata e generosa alla chiesa e la povertà esemplare vissuta con coerenza totale fino all'ultimo giorno della sua vita. Tanto da far dire al vescovo di Ragusa, Monsignor Pennisi, che ne ha celebrato le sequie, è morto il vescovo più povero della Sicilia. In soli 10 anni dall'avvio del processo canonico promosso dal vescovo Monsignor Mari Lussotto, nel gennaio del 2018 è arrivato il riconoscimento delle sue virtù dopo un'intensa attività del Tribunale diocesano che ha interrogato 57 testi e raccolto testimonianze in 72 sessioni.